Ciao Canale e Nikita, oggi noi siamo allo studio dentistico qui in Russia con la mia mamma mamma non sei ancora un studio dentistico vero? vi facciamo vedere com'è che qua fanno le operazioni dentistiche hai paura? no e Nikita piace andare qua, noi quando veniamo in Russia veniamo qua perchè qua è veramente molto molto bello a me piace questa cosa è forte uuuu che paura il dentista ci sono fatti divertiti vai dove succhi? ora ho toccato i miei denti ciao Nikita, cosa stai guardando? cattivissimo mezzo adesso metto l'anestetia con un picco di praga io ho tolto Nikita, ti sei neanche accorto? eeeh la cosa più difficile è la sua dieta ma non è veramente niente era Guarda che ti dà la moneta, vediamo cosa ti dà qua, fa vedere, ti ha dato il soldo, il soldino? Ho fatto male, si, guarda questa monetina, la metto qua, senti la vogliamo regalo, Aspetta, wow, vediamo cosa hai preso, un Pokémon, vale la pena di venire qui solo per quello, eh? Eh si, per capo, non puoi guardare il cinema, hai fatto troppo in fretta, eh, si, non puoi guardare il cinema, Allora lavali meno, anche così la prossima volta a stare più tempo, ricadarti meno dolci, lavare sempre i denti, vero Lichita? Vuoi tolto un dente ma ne hai messi tanti lì, fa vedere? Allora lavali meno, anche così la prossima volta a stare più tempo, ricadarti meno dolci, lavare sempre i denti, vero Lichita? Allora lavali meno, anche così la prossima volta a stare più tempo, ricadarti meno dolci, lavare sempre i denti, vero Lichita? Allora lavali meno, anche così la prossima volta a stare più tempo, ricadarti meno dolci, lavare sempre i denti, vero Lichita?